Nutrire il pianeta energia per la vita, il claim di Expo Milano 2015, l'esposizione universale tanto amata dagli expo-ottimisti quanto osteggiata dai no-expo. Eppure soltanto oggi, primo ottobre, a distanza di cinque mesi, che se ne scoprono finalmente tutti i numeri grazie al rapporto di sostenibilità. Abbiamo annunciato tutti i vincitori del premio towards a Sustainable Expo, ma Expo ha prodotto anche un rapporto di sostenibilità. Quali sono stati i criteri attraverso cui avete compilato questo rapporto? Il rapporto è la sua terza edizione. Abbiamo iniziato a pubblicarlo nel 2013, poi nel 2014 e nel 2015. Quindi 2013-2014 i criteri abbiamo dotato quasi completamente a quelli del GRI. Quest'anno invece, in prossimità della chiusura dell'evento, abbiamo fatto un'edizione molto più ridotta, selezionando quelle informazioni che riguardano proprio la vita dell'esposizione durante questo semestre. Abbiamo raccolto i dati al 15 settembre, quindi recentissimi, in modo tale da dare un'informazione puntuale di quello che è successo all'interno del semestre espositivo. Qual è stato il numero più bello? Il numero più bello? Beh, guarda, ce ne sono tanti perché ognuno ha una sua storia, un suo perché e una sua motivazione. Dall'accessibilità al sito, con 21.000 biglietti per disabili, alla raccolta differenziata al 70% raggiunta, al fatto di non aver avuto infortuni gravi e mortali per il semestre, non il semestre, gli anni di cantiere di realizzazione di questo sito espositivo. Quindi sono tantissimi i numeri giusti. Poi gli eventi ce ne sono stati tantissimi. In tutta onestà, qual è stato il numero su cui avresti sperato di ottenere qualche risultato in più? È difficile pensarlo. Davvero faccio un pochino fatica perché sto un po' pensando, anche l'acqua delle casette abbiamo raggiunto tantissime persone che si sono approvvigionate con l'acqua dell'acquedotto. Abbiamo avuto una superficie a verde molto estesa, la fitodepurazione con le piante che possono depurare l'acqua, gli eventi, i progetti particolari, i progetti di feeding knowledge, i progetti delle Women for Expo. Quindi sono veramente tanti. Faccio un po' fatica a trovarne uno che non mi abbia davvero soddisfatto, anche se non lo abbiamo come numero di successo. Il fatto che il tema della sostenibilità abbia raggiunto anche tanti addetti ai lavori o non addetti ai lavori. Cioè persone che magari si occupano di comunicazione, di organizzazione dell'evento, di logistica, di altre attività che hanno appunto colto i criteri della sostenibilità. E per il dopo Expo come si è deciso infine? A cosa sarà destinato questo spazio? Come sapete benissimo non è la società Expo 2015 SPA che si deve occupare del riutilizzo dell'area. Noi al momento ci stiamo occupando con un progetto del riuso di tutti quei beni che sono nelle nostre disponibilità e che quindi verranno riutilizzati a fine evento. Stiamo predisponendo un programma per capire proprio come riconvertirne l'utilizzo.